Trazioni, alla sbarra. Posizionatevi in sospensione alla sbarra, mani molto distanziate, formando una V. Le braccia, non devono essere totalmente distese, in modo da mantenere il muscolo dorsale, in tensione costante. Eseguite una trazione verso l'alto, fino a sfiorare con il vostro petto la sbarra. Durante il sollevamento, il corpo deve seguire una linea retta, e non deve oscillare, né in avanti, né indietro. Ritornate in posizione di partenza, lentamente, e ricordate, di non distendere completamente le braccia. Grazie a tutti.